Ciao ragazzi scusate mi eravate sfuggiti Comunque ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo qui per aprire la collezione Destini sfuggenti di Mew 2 Nello scorso video dove siamo andati a prendere quella di Mew Ho trovato due Stormy GX e la triade di uccelli leggendari Quindi non vedo l'ora di vedere cosa ci sarà qui dietro Andiamo subito a vedere il retro per vedere cosa c'è scritto Quindi scatenate la furia di Mew 2 Creato manipolando i geni del minuscolo Mew Il pokemon leggendario Mew 2 non è solo più imponente Ma sfodera anche una potenza formidabile Di tipo psico e un animo selvaggio e crudele Il nemico terribile del passato misterioso e allenato E alleato Scusate ragazzi E alleato ambito da tutti i collezionisti Mew 2 è un pokemon tanto difficile da incontrare Con quanto da sconfiggere Ok scusate ragazzi per come ho letto ma Non ho nessuna spiegazione per questo Comunque adesso andiamo ad aprirla Quindi facciamo attenzione come ho aperto quella di Mew 2 Cioè mio Questa è stata molto più facile da aprire Non so perché Ok quindi questo l'abbiamo salvato Mettiamolo via Andiamo a vedere il contenuto Non so perché facciamo che Perfetto Allora abbiamo Carta codice che togliamo La carta promozionale di Mew SM214 Guardate che bella fantastica Con abilità report mentale T slash report scusate ragazzi dovevo dirlo E psico shock che toglie 70 Ok poi abbiamo la spilletta Molto chiarina Sembra che fa l'onda energetica Magnifico Strabiliante E poi tre pacchetti Che abbiamo come l'altra volta Il charter Poi qui abbiamo il Mew Come l'altra volta anche Il mio pack preferito Ovvero la tria degli leggendari Quindi senza perdere assolutamente tempo Andiamo ad aprire Mew Allora Questo mio lo devo salvare Perché voglio salvare i pacchetti Anche se sembra una cosa impossibile Aprire questi pacchetti Senza Romperli Comunque ci voglio provare A presto Perfetto Quindi via il pacchetto Con i codici che togliamo Trick a 4 Chiudiamo bene E andiamo Energia Folletto Tenace di Brock Palestra di Celestop e di Misty Censi Psyduck Ekans Caterpie Paras Charmander Energia Eletro E infine Un Arbok di Misty Carina questa Ok Poi Poi Scusate ragazzi Fatti mi metto a posto le carte Ok Adesso andiamo con Quello di Charizard Che questo qui lo devo salvare Perché come avete visto nel discorso L'ho distrutto Quindi questo Deve assolutamente Essere salvato Prego Piano che non ti rompere Hai Ti ho fatto un pochino Che si è Prega Allora Quindi Forza Apriamo Ok Codice che togliamo Trick a 4 Forza Andiamo andiamo Ok Uh Questo è qualcosa di in fondo Energia Psico Shin Jinx Gravler Farfetch Farfetch Sì Ekans Paras Caterpie Charmander Clefairy Un altro Ekans E un Giglitaff Jigs Ok Con Furia Rotolante Una stella Ad un Ok ragazzi Scusate ma avevo la memoria piena Quindi abbiamo trovato Un Giglitaff Jigs Ok Adesso Ultimo pacchetto Per Mewtwo E vediamo Cosa Riesco a trovare qui Questo Vorrei anche questo Salvarlo So che ho salvato già l'altro Però Ne voglio avere Uno In più Oh mannaggia Anche spaccare una cosa impossibile Ok perfetto 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 Spaccato Rotto Perfetto Capiamo di qua Ok Clefairy Clefairy Raulet Shiny E poi Un Jolten Ok ma Ecco qui Ragazzi Raulet Shiny Andiamo a mettere subito su questa Ok Diciamo quasi Misera Sleeve Ma Wow ragazzi Guardate che bella Con azione Foyame Fantastica Ragazzi Con tutte le cose Che ho trovato Posso stare Molto Molto Bene Cioè guardate il bottino Di tutti e tre Questi Cioè di tutti e due Questi Box Quindi Ragazzi Spero che questo Video Vi sia Piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale Spero di portare Altri box Di Gli stili sfuggenti Che non mi sfuggano E niente Noi ci vediamo A un prossimo video Ciao Ciao